L'unica certezza è che questa pellicola 35 mm, unica copia in assoluto, non diventerà mai un on video. I DVD in circolazione non hanno nulla a che vedere con il contenuto del film, l'ultimo della porno star Moana Pozzi, scomparsa esattamente 20 anni fa. La pizza, come si chiama in gergo, è stata ritrovata in un vecchio cinema di Bergamo, ora in possesso di un avvocato di Barletta, legale di Luciana Conti, la vedova di Nicolino Matera, proprietario dell'immobile, produttore cinematografico, che girò con l'attrice una pellicola mai uscita nelle sale. Aveva bisogno di soldi Moana per curarsi dalla patologia di cui soffriva, era malata quando prese parte alle riprese. Chi ha visionato la pellicola conferma che non era più lei, magra e sofferente rispetto all'immagine giunonica che aveva sempre offerto di sé. Noi abbiamo la pellicola unica dell'ultimo film girato un paio di mesi prima che morisse, girato da Moana Pozzi. La pellicola annuncia l'avvocato Cianci sarà ridotta in frame, in vendita per appassionati e amanti del vintage, nostalgici di una diva senza tempo. Questa pellicola non sarà mai trasmessa in pubblico, quindi diciamo non andrà mai in onda il film, e sarà frantumata a frame, quindi sarà venduta in tutto il mondo con un'asta online che andremo a fare. Perciò rispetteremo un po' quella che è stata la volontà anche di Moana Pozzi di disperdere le ceneri del suo corpo e quindi disperderemo l'ultimo film testamento di Moana Pozzi.